Arrrr, frittelli e frittelle, qui è Capitan Caponcell della Sarese, della città spanta di Pastavion, che vi parla. Oggi, come forse saprete, è il primo giorno di Ramendan, una grande festa pastafariana che dura un intero mese. Vi direte, forse questo nome vi ricorda qualcosa? Il Ramadan, forse? Esatto, infatti cade nello stesso periodo, quest'anno dal 18 giugno al 18 luglio. Ma è profondamente differente dall'altra festa. Infatti, noi durante il Ramendan non facciamo digiuno, in quanto sarebbe contrario alla nostra fede e alla nostra morale. Ad ogni modo, durante questo periodo, noi, in ricordo di quando eravamo o siamo studenti universitari e non avevamo soldi, per alcuni giorni del mese mangeremo solamente ramen. E questo per ricordarci che, in fine conti, dobbiamo essere felici di quello che abbiamo. E se non abbiamo nulla, almeno dobbiamo essere felici di essere dei tiratti pasta fariani. ARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR! Come vedete, qui di fronte a me, ho una ciotola di rami di istantaneo, e una birra e cos'altro dire se anche voi volete inviare delle video, delle foto per immortalare il vostro ramendan potete farlo in descrizione di questo video trovate il link all'evento e alla pagina facebook della Chiesa Pastafariana Italiana seguite i contatti guardateci e soprattutto aeeeeee pirreluia